P-Eco SRL, incontrada a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrada a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale compost. P-Eco SRL, al servizio dell'ambiente. Saranno sicuramente quasi 100 le uova che si schiuderanno tra circa 40-45 giorni, depositate nella mattinata di ieri incontrate a Galici, da una tartaruga caretta caretta. Lo annuncia il responsabile del settore veterinario del distretto sanitario di Patti, Giuseppe Riuzzo, mentre insieme al delegato della Guardia Costiera di Patti, Tony Citti, e dei vigili urbani, ispettore capo Giuseppe Ricciardi e Antonino Natoli, controllano che tutto sia perfettamente in ordine, ben trantennato e racchiuso dentro una gabbia di metallo, in modo da evitare possibile intrusione di persone che di animale. Ma ecco le interviste rilasciate in esclusiva da Riuzzo e quindi dal direttore Tony Citti. Ma più che me l'avviso primario è venuto alla Capitaneria di Porto per competenza e quindi la Capitaneria successivamente ha notiziato gli organi istituzionali che siamo presenti sul territorio e quindi siamo qui per verificare e delimitare queste aree e constatare questo stato dei luoghi. E in effetti sembrano evidenti quale traccia della tartaruga che salvano e che depositano le uova e successivamente c'è la discesa della tartaruga, proprio le tracce che portano al mare di nuovo dopo l'atto della deposizione delle uova. Ecco, al momento attuale quindi ancora non ti sa di preciso quanto sono le uova che si debbono dischiudere e quanto tempo ci vuole affinché le uova si possono dischiudere? L'incubazione dura 45 giorni e quindi dobbiamo avere la pazienza di aspettare. Se sono fiori, fioriranno e quindi 45 giorni è stata attesa. Andare a verificare se le uova sono interrate io direi che sarebbe un errore. Bravo, quindi lasciare tutto per adesso. Lasciare tutto qui, ecco, c'è il WVF che è già provveduto a ben delimitare l'aria, il comandante della Capitaneria lo aveva già fatto con le strisce, quindi l'aria è ben delimitata e certamente non credo che le persone verranno qui a disturbare questo fenomeno. È un fenomeno che si verifica spesso nell'area del Mediterraneo e in Sicilia abbiamo avuto questo fenomeno qualche mesetto fa nella spiaggia di Brolo e quindi dobbiamo dire che la nostra spiaggia, posso dire che ancora è pulita, quindi indipendentemente da quando si parla che il mare è sporco, qua la zona contro la calice è effettivamente super pulita, dato che le tartarughe, si sa, per tradizione, deposano le uova proprio in un ambiente super protetto. L'hanno stabilito le tartarughe perché hanno prediletto quest'aria per venire a depositare le uova, quindi questa cosa è, ecco, dobbiamo dire che è così, è pulita, è pulita, è pulita, è pulita, si, e guarda caso proprio poi a distanza di pochi metri dalla famosa zona dove c'è lo scarico fognario, quindi vicino alla villa romana, di conseguenza significa che effettivamente è solamente quel tratto, ma per il resto è tutto pulito. Beh, certamente, certamente. Perfetto, quindi adesso bisogna aspettare 45 giorni? Sì, per la schiusa delle uova, e quindi, ecco, tra 45 giorni, due sono già passati, quindi diventano 43, potremmo assistere all'evento della nascita. Sì, è sicuro perché le hanno viste le persone che abitano qua e quindi hanno subito avvisato la catena. Ma poi le tracce, le tracce che sono qui nei paesi, si fanno proprio pensare al deposito delle uova da parte della tartaruga marina, con la salita, ecco, del soggetto, deposito le uova e poi c'è la discepa, naturalmente. Perfetto. E dicoci con il comandante della delegazione della scheggia di batti, Tony Citti, a quale chiediamo che è stato il primo a ricevere questa segnalazione. Com'è la situazione? La situazione è del tutto in sicurezza, perché comunque l'area dove esiste presumibilmente la deposizione delle uova da parte della tartaruga è stata delimitata. Quindi è stata delimitata inizialmente, ma poi in maniera definitiva già subito dopo le successive ore. Quindi l'ente del WWF della Sicilia nord-orientale di Catania è venuta prontamente, proceduto in quelle che sono le recinzioni previste in questo caso. Quindi è stato accertato che ci sono sicuramente le uova? Quasi, possibilmente ci saranno le uova, adesso nelle prossime ore verrà un esperto proprio per verificare l'esistenza effettiva, però intanto si è messo in sicurezza il sito in modo tale che a prescindere voglio dire il tutto sia in sicurezza che non venga danneggiato o deturpato. E' la prima volta che si verifica nella zona di patti? Sì, a mio avviso in questi ultimi anni penso che sia la prima volta. Forse magari in passato c'è stata qualche altra occasione, magari non è stata divulgata oppure non ci si è accorti, però questa è una bella realtà ed è del tutto nuova. Qual è l'iter preciso? L'iter preciso intanto è il primo accertamento è subito delimitare l'aria e metterla in sicurezza perché voglio dire non tanto l'azione umana ma anche l'azione animale, nel senso che anche un cane potrebbe venire a scavare per dare il danno. La prima cosa è questa. C'è una gabbietta che protegge il tutto. C'è una recinzione metallica che va fino a giù, fino a sotto la parte interrata e anche una porzione di rete metallica al di sopra della presunta fossa in modo tale che anche a pressione non si vada poi a scacciare, a fare danno. Perfetto. Altro che possiamo dire a beneficio dei nostri spettatori? Perfetto, a beneficio dei nostri spettatori. Se ci sono altre presunte situazioni del genere in questa zona che ce lo segnano noi interverremo subito e nella maniera adeguata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La loro missione? Far diventare un costo, una risorsa.